Vuoi parlarle a proposito del caso Kay Reimann, tenente? Sì. Io pago le spese per la difesa di quel ragazzo. Sì, lo so. Se pago per la difesa di Julian Kay è perché so che è innocente e non voglio che corra il rischio di un errore giudiziario. Come fa a sapere che non è colpevole? Perché non era a Palm Springs la notte dell'omicidio. No? No. Julian era con me. Gliel'ho detto, Julian. L'ho saputo. Non c'era bisogno che lo facessi. Dovevi dimenticarmi. Preferirei morire. Cosa farai adesso? Non lo so. Non posso tornare a casa. I giornalisti mi stanno aspettando fuori. Ce ne sono decine. Perché l'hai fatto? Non avevo scelta. Io ti amo. Anche io, Michelle. Quanto tempo ci ho messo a capirlo. Non ci ho messo a capire. Grazie a tutti.